Noi siamo sulla linea di Luigi Di Maio che ha detto ora la parola in Parlamento, noi non indietreggiamo, questo è un tema che fa parte della nostra identità, noi siamo contrari alla TAV e nessuno può farci cambiare idea, abbiamo studiato documenti, siamo stati a fianco del comitato da sempre, è un elemento identitario e quindi in Parlamento ci esprimeremo con un voto contrario. Conte ha un ruolo terzo e ha fatto una valutazione in base a quanto i tecnici gli hanno comunicato sull'analisi costi benefici, rappresentando a tutto il paese questa novità che l'Europa ha detto di volerci mettere più soldi, chiaramente noi non siamo soddisfatti di questa valutazione, per noi non è solo l'elemento economico finanziario che deve guidare una scelta di quella natura, noi abbiamo una visione del mondo, dei sistemi produttivi, dello sviluppo economico completamente diverso e nessuno può farci cambiare idea.